Eder condanna la retrocessione aritmetica alla Salernitana, ma quanta fatica per l'Empoli. I campani vanno addirittura in doppio vantaggio. Dionisi inizia e conclude in rete la prima azione della partita. Per l'attaccante arrivata a gennaio in prestito da Livorno è il settimo gol stagionale. Caputo di testa sfrutta al meglio la punizione di Capone e fa 2-0 Salernitana. I tifosi dell'Empoli sono increduli, ma finalmente si sveglia Eder. Il numero 7 impatta bene il pallone dopo la sponda di Coralli e riporta in scia i toscani. Il fallo di Pepe in area di rigore su Coralli lascia l'assa a Lernitana in 10 e manda su dischetto Eder che non sbaglia. Nel secondo tempo altro rigore in favore dei padroni di casa. Giuliano si becca il rosso per questo contatto con Eder, sempre infallibile dagli 11 metri. L'ex attaccante del Frosinone lascia di nuovo il segno dalla distanza e così sono venti le reti stagionali per l'idolo del Castellane a cui Campilongo concede la giusta standing ovation. Nel finale il definitivo 5-2 di Marianini che non ha pietà dei ragazzi di Cerone.